Allora, oggi iniziamo a dare un significato alla parola programmazione, soprattutto per chi ne ha un pochino più di giuno e poi inizieremo ad affrontare i primi passi nell'ambiente di sviluppo di Python, ricordandoci che in realtà la parte da non dimenticare mai prima di arrivare a scrivere il codice è progettare il software. In questo slide qua ci sono semplicemente alcuni riferimenti grafici, una leggenda che ci aiuta a capire nelle slide successive che cosa significano i vari simbolini, in particolare io tendo a faremo gli esercizi a farli direttamente, magari inventandoli nuovi, diversi da quelli che ci sono sulle slide, però sulle slide ci sono parecchi esempi ogni tanto, esercizi proposti e fanno riferimento al codice che a volte è mostrato intero o a volte parzialmente sulle slide. Nel materiale didattico trovate un file zip che contiene tutti gli esempi che sono citati nelle slide, ok? E quando nelle slide è citato un file che è presente dentro questo zip trovate quest'icona qua sulle slide, quindi se volete poi andare a scaricare, a guardare l'esergente anziché ricopiare la mano dalle slide ovviamente è più comodo. Ok? Allora, iniziamo, diciamo così, a fare un'introduzione un pochino più, un pochino rapida, in un certo senso, di qual è il modello mentale, diciamo così, con cui funziona un calcolatore dal punto di vista della sua programmazione e poi cominciamo a darci degli strumenti che ci permettono di progettare alcuni programmi. informazioni. Allora, noi parliamo di informatica dove la parola chiave è informazione. Quindi noi sviluppiamo delle soluzioni che manipolano informazioni. Noi non risolviamo i problemi del mondo, no? Non modifichiamo delle cose, diciamo, oggettive, reali, tangibili, non direttamente, ma impariamo a manipolare delle informazioni in ingresso e in uscita. Informazioni che possono essere di qualunque tipo, no? Dai numeri alle immagini ai simboli, eccetera, ma questo è, diciamo così, il punto di vista del calcolatore. Il calcolatore è una macchina che è un frullatore che frulla numeri, essenzialmente. A seconda di come frulliamo questi numeri otterremo dei risultati diversi che hanno un certo significato. Ok? Quindi dal punto di vista del calcolatore noi dobbiamo abituarci a chiuderci in una scatola, per immaginare come vive il calcolatore, dalla quale non abbiamo quasi nessuna comunicazione con l'esterno. Cioè, se noi fossimo un computer saremo chiusi dentro una scatola, non sappiamo nulla del mondo esterno, se non alcuni dati che ci vengono forniti in ingresso, bontà di chi ce li fornisce, li troveremo su un file, saranno scritti da tastiera da qualcuno, qualcun altro cliccherà su dei bottoni, su delle caselle con un mouse, in qualche modo dall'esterno arrivano informazioni, codificate sotto forma di dati, poi discuteremo la differenza tra dato e informazioni. Io del mondo esterno conosco solo questo. E il mio compito è di frullare all'interno del calcolatore questi dati d'ingresso per produrre dei dati in uscita, che in qualche modo mostrerò a chi mi ha fatto fare il lavoro. Solo li mostro sullo schermo, li mando in una mail, li salvo in un file, li visualizzo come immagine, eccetera, le varie forme con cui il calcolatore può produrre dei dati in uscita. E come fa il calcolatore a sapere cosa deve farci con questi dati d'ingresso e quindi che tipo di output deve produrre? Lo sa perché all'interno lo fa eseguendo una certa serie di operazioni al suo interno. Operazioni che, ripetiamo ancora una volta, possono solamente avere accesso ai dati che gli abbiamo fornito e nessun'altra conoscenza in più del mondo. Noi abbiamo calcolatori programmabili perché lo stesso calcolatore può fare elaborazioni diverse sugli stessi dati o su dati diversi in funzione del programma che guida la sua elaborazione. Ok? Quindi quando voi avete una calcolatrice e sulla calcolatrice c'è la dice quadrata, il seno e il coseno e la tangente, quello è un laboratore che sulla base dei dati che gli mettete e della funzione che avete chiesto vi dà un certo output. Ma quello non è programmabile, nel senso che voi non potete, vabbè i modelli più fighi sì, ma di base, non potete decidere che cosa fare il calcolatore. Quel calcolatore fa quello per cui è stato costruito, fare quelle operazioni lì e basta. Qualcuno per noi l'ha deciso. Se voi andate a casa, accendete la lavatrice, che dentro c'è un piccolo calcolatore per gestire i programmi, non è che quella lavatrice potete far risolvere il problema di trigonometria. Pur avendo un processore dentro che sarebbe in grado di farlo, lei è stata impostata e programmata per fare certe cose, gestire il ciclo di lavaggio. Quindi sono calcolatori che hanno uno scopo solo, sono stati progettati con uno scopo, single purpose. Noi invece pensiamo a sistemi di elaborazione general purpose, quindi hanno più scopi e quindi possono essere, il loro comportamento può essere personalizzato in funzione del software che ci mettiamo sopra, in funzione dei programmi che ci mettiamo sopra. Quando voi siete andati a comprare un computer, non vi hanno chiesto che cosa ci fai su quel computer, che calcoli devi fare, che elaborazione devi fare, ti serve per scrivere dei testi o per fare dei disegni. No, quello è un problema successivo, dipende dai programmi, dalle app che ci installo sopra. Quindi noi abbiamo una piattaforma di elaborazione neutra, sa fare delle cose, quali cose fa dipende dal software che ci metto dentro. Dal software che ci metto dentro, che scarico, che compro o che scrivo io. Perché poi alla fine il software è tutto uguale per il computer. Ovviamente è una macchina che elabora dati e quindi bisognerà dare un senso a questi dati. Quando noi l'altra volta, lunedì, abbiamo stampato 12, quello è un numero. E come vi dicono gli insegnanti di fisica, 12 ancora sono mele, pere o patate. No, sono a frequenza del nome più frequente dell'aula. Ma il significato che ha quel numero lo sappiamo solo noi. Il calcolatore è in grado di fare dei conti. Se anziché dei nomi di persona li avessi messo dentro, dei nomi di verdure o di fiori o di dinosauri, il programma, quelle elaborazioni lì, le avrebbe fatte comunque. Quindi avrebbe fatto una certa serie di operazioni su certi dati di ingresso, fornendo certi output, seguendo le istruzioni. Il significato dei dati di ingresso e il significato dell'output dell'elaborazione lo so solo io. Il che vuole anche dire che quando voglio risolvere un problema concreto, devo tradurlo in una serie di operazioni sui dati che prescindono dalla comprensione del problema. Devono essere operazioni neutre, ma matematica, adesso qua il collega ha cancellato le lavagne, se no avrebbe detto una di quelle formule lì, vale indipendentemente da che cosa rappresenta X. Poi i matematici non interessa cosa rappresenta. E in particolare la cosa diventa ancora più complicata, perché il calcolatore non è in grado di comprendere testo, immagini, suono, colori, ma è in grado di comprendere solamente un linguaggio fatto di due soli valori che sono 0 e l'1. Infatti parliamo di calcolatori binari. E infatti i calcolatori lavorano su un'unità di informazione che si chiama bit, che sta per binary digit. Binary digit, digit vuol dire cifra, non vuol dire dito, binary vuol dire binaria. Quindi tutto ciò che sa fare il calcolatore è ciò che si può esprimere attraverso un'aritmetica di numeri, di cifre, di digit in base a due binaria. Impareremo poi a lavorare, faremo una lezione in mezza sulla aritmetica binaria per capire a livello basso come funziona il calcolatore dentro. Quindi in qualche modo qualcuno ha deciso che la lettera Z, che è un carattere di testo, a livello di cifre binarie si rappresenta da una certa combinazione sequente di 0 e 1, che non mi ricordo a memoria e non è sicuramente quella che si è scritta lì sulla slide. Questa conversione qui, i vari ambienti, i linguaggi di programmazione cercano di rendercela il più indolore possibile. Noi in questo corso non dovremmo mai, quasi mai, andare a ragionare ma guarda che questo numero qua, questa lettera, questa parola ha questa combinazione di 0 e 1. Sarebbe abbastanza da mal di capo, abbastanza intenso, dovremmo ragionare a un livello basso così. Per fortuna noi riusciamo a ragionare usando dei linguaggi, degli ambienti di programmazione che ci permettono di ragionare in un modo un pochino più vicino a come vediamo le informazioni, a come le vediamo noi. Quindi quando devo scrivere la lettera Z, scriverò aperte virgolette Z, chiuse virgolette e non dovrò sapere come cavolo è codificato in binario quella lettera lì. Poi ci sarà un processo di traduzione che farà sì che poi questa lettera venga tradotta in quella sequenza binaria, ma quella parte lì io non la vedo più. È stato ammorbidito, addolcito. Il computer che noi usiamo non è il vero computer. È il computer vero intorno al quale sono stati costruiti una serie di strati di ammorbidimento dell'interfaccia in modo da rendere più fruibile da noi utenti. E quindi già qua vediamo la differenza totale tra quello che è il calcolatore come piattaforma di calcolo, cioè che è in grado di fare delle operazioni, l'hardware, e sull'hardware faremo anche qua un approfondimento per capire un po' meglio com'è fatto al suo interno. L'hardware è la parte fisica del calcolatore. Se io posso dirlo con un modo facile da ricordare, l'hardware è ciò che si rompe se cade per terra. Ok? Quindi la tastiera, lo schermo, la memoria, l'hard disk, l'alimentatore, sono tutte le componenti fisiche che sono fondamentali perché sono quelle che fanno l'elaborazione, ma non hanno, fatemi dire tra virgolette, intelligenza perché non sanno quale elaborazione fare. Il quale elaborazione fare lo decide il software, i programmi, le app, che carichiamo sull'hardware e una volta che sono caricate possono personalizzare il comportamento di quel telefono, di quello smartphone, di quel tablet, di quel computer facendogli fare certe operazioni che sono decise dal software ma sono eseguite dall'hardware. Il software è una parte intangibile, non ha un peso, non ha una dimensione, la dimensione ce l'ha in byte, in bit, è informazione pura, sono istruzioni e dati puri, un software da solo non fa nulla. Se io avessi in mano la chiavetta con sopra un programma, sta lì, posso tenerla in mano per 10 milioni di anni ma non farà mai nulla, sono dati scritti dentro una chiavetta. È solo quando questi dati vengono acquisiti da un calcolatore e questo calcolatore inizia eseguire i comandi che sono scritti lì dentro, allora il software viene mandato in esecuzione su una piattaforma hardware e allora lì effettivamente svolge il suo compito. La piattaforma hardware, come dicevo, lo vedremo in una lezione apposta, alla fine si basa su un'unica unità centrale, la progetta CPU del calcolatore, che è un componente elettronico che esegue tutte le elaborazioni. Quindi il vero computer, in realtà, è una cosina che crossa un 2x2 cm, forse anche meno, dello spessore di 1,5 mm, è lì che il vero computer fa le cose. Tutto il resto è inutile, o meglio, è utile a noi, non al computer, perché la tastiera deve avere una certa dimensione fisica, lo schermo dobbiamo riuscire a vederlo, leggerlo, le batterie hanno un certo peso, ma non è, sono componenti hardware che sono pensati, progettati per rendere il calcolatore usabile dagli umani, ma il calcolatore stesso è chiudo dentro l'unità di elaborazione che ovviamente si appoggia a una serie di memorie, la memoria principale, la memoria di massa, eccetera, approfondiremo queste cose in cui salvare i programmi, in cui salvare i dati, perché, come l'esempio della calcolatrice di prima, la CPU è in grado di fare le elaborazioni, ma poi alla fine i risultati o i dati li devo salvare da qualche parte. Allora, o la calcolatrice ha la sua memoria dentro cui salvarli, o perché se non mi basta, devo trascriverli da qualche altra parte, no? E quindi anche qua ci sono questi vari componenti. Oltre ai dispositivi che permettono al calcolatore di comunicare con l'interno dell'esterno, la tastiera, il mouse, lo schermo, l'autoparlante, il microfono, eccetera, no? Che fanno parte dei componenti hardware, prima avevamo detto, ah, dentro il computer entrano i dati, sì, ma da dove entrano? Entrano dalle unità di ingresso, che possono essere o appunto una chiavetta in cui sono salvati dei dati, o la tastiera attraverso cui scrivo, il microfono dentro cui parlo, eccetera, eccetera. E quindi approfondiremo in una delle due lezioni, diciamo così, di argomento teorico, proprio questa architettura qua, in cui vedremo i vari, a livello molto macroscopico, i vari componenti dell'architettura, cosa fanno e come collaborano tra di loro. Mentre invece per ora ci concentriamo di più sull'aspetto software, che è quello poi predominante nel corso, ma chiaro che un pochino di hardware la devi capire, perché se no non capisci cosa sta succedendo quando scrivi. E software è una parola molto, molto ampia, tutto può essere software, o meglio ci sono software di vari tipi di livelli, ad esempio quello che è più facile da capire è il cosiddetto software applicativo, no? Un programma scritto da te, un'app che ti sei installato, eccetera. Si dice programma applicativo perché risolve un problema applicativo, risolve un problema di una certa categoria di utenti che vuole fare una certa operazione. E poi il motivo per cui io compro un computer, lo compro per scrivere, lo compro per giocare, lo compro per fare dei calcoli, eccetera. Da solo il software applicativo non può funzionare, esistono tutta una certa serie di software più di basso livello, che sono più integrati con l'hardware, che permettono al software applicativo di riuscire a utilizzare le risorse dell'hardware stesso. frase che purtroppo adesso non si riesce a capire, non ho tempo di, diciamo, ma analizzeremo, la apriremo, ma per farvi l'esempio è il sistema operativo. Cioè tu è inutile che tu abbia un'app, per scaricare l'app hai bisogno del sistema operativo all'interno del quale installarlo. Se tu non avessi il sistema operativo, che ne so, Android, non potresti, Google Maps da solo non vive, perché sarebbe un software che ha bisogno di accedere al GPS, ha bisogno di accedere alla rete, ha bisogno di accedere a tutta una serie di risorse dell'hardware che vengono messe a disposizione e gestite da una certa serie di software, cosiddetto di sistema, che rende le risorse dell'hardware accessibili ai software applicativi. Per farla breve, ci sono appunto vari livelli di software dal più, chiamiamolo di basso livello, nel senso che è più vicino all'hardware, a quello più di alto livello, che è più vicino all'utente finale. Chiaramente queste varie tipologie di software avranno ciascuna, modi di essere progettati diversi e molto spesso anche linguaggi di programmazione diversi, più adatti alla funzione che devono svolgere. Ma questa è una visione nostra come progettisti, dal punto di vista del computer tutti i software sono uguali, sono una serie di istruzioni da eseguire una dopo l'altra senza capirle, senza pretendere di capirle. Io prima, due minuti fa, ho detto una parola sbagliata, ho detto che il computer capisce gli zeri e gli uni, ma neanche gli zeri e gli uni capisce. Il computer è in grado di eseguire delle istruzioni che manipolano questi zeri e questi uni. Non capisce se sta facendo una somma o una sottrazione, sta eseguendo delle operazioni il cui effetto e l'esito è quello di far sì che il numero rappresentato in binario sia la somma dei due precedenti. Quindi il verbo capire dobbiamo cancellarlo, poi a volte per comodità lo usiamo, però la macchina non capisce. Quindi non capisce se sta eseguendo un'istruzione applicativa o un'istruzione del sistema operativo. Esegui istruzioni e basta. Questa è la triste vita della CPU. Chi capisce siamo noi, programmatori, che dobbiamo scrivere le istruzioni che poi, una volta eseguite dal computer che non capisce niente, produrranno un risultato che speriamo sia quello utile, quello che volevamo all'inizio. Quindi siamo già passati da un concetto di software, di programma, a un concetto di istruzione, di singola istruzione, di singolo passo. Un programma non è altro che una sequenza, breve o lunga, di singoli passaggi, di singoli istruzioni. Nei linguaggi di programmazione di più di basso livello, una singola istruzione è comprensibile direttamente dalla CPU, dall'hardware e quindi sono istruzioni di una, diciamo così, livello così basso che diventa veramente pesante riuscire a lavorare. Però qualcuno lo deve fare. Qualcuno deve scrivere programmi che siano direttamente comprensibili dalla CPU. Noi scriveremo un programma in un linguaggio più ad alto livello, per cui una singola istruzione in Python corrisponderà magari a 10.000 di istruzioni di linguaggio macchina. E ci penserà appunto l'interprete Python, io vi ho fatto installare il programma Python. Cos'è quel programma lì? È l'interprete che traduce ciò che scriviamo noi ad alto livello, in modo comprensibile, carino, con le parentesi, con i colori, lo traduce in codice macchina, il quale poi viene eseguito. Quindi noi il codice macchina non lo vedremo mai, ma è vero, è l'unico che in realtà viene eseguito dal calcolatore. Noi quindi ragioneremo sempre come sequenza di passi da eseguire uno dopo l'altro, semplicemente con i linguaggi ad alto livello i passi da eseguire sono passi un pochino più lunghi. Quindi anziché essere passi microscopici, che ci mettono magari 200.000 istruzioni per arrivare fin là, un po' passettini, ce ne metterò solamente 10, perché il passo che faccio è più lungo, perché mi permette di esprimere, diciamo, le mie istruzioni con un vocabolario più ampio, più ricco. L'esempio che facevamo lunedì, dell'amico molto molto stupido, ma molto molto servizievole, che eseguiva le mie istruzioni, ecco, lo posso sostituire, usando i linguaggi più di alto livello, con un amico che continua a non essere intelligente, ma comprende un vocabolario più ampio. È un po' come dire, io nella calcolatrice scientifica ho anche le funzioni trigonometriche, nella calcolatrice che trovi omaggio nei dettagli, non ci sono, ci sono solamente le quattro operazioni, più o meno per diviso radice quadrata. E comprende, posso calcolare il coseno con la calcolatrice con le quattro operazioni? Certo che posso, ci sono 12.000 formule che ti dicono come fare con una serie di operazioni a ottenere il valore di un seno o di un coseno, semplicemente usando le quattro operazioni di base. Solo che anziché schiacciare il coseno, devi lavorare un quarto d'ora perché le istruzioni che hai a disposizione sono più semplici. E poi ovviamente devi sapere come fare, devi farti da qualcuno, qual è lo sviluppo di teglia del seno e quindi modificarlo in somme e moltiplicazioni ripetute. Lo sai fare, hai un meccanismo per implementare a un livello più basso un'operazione che è un altro calcolatore, che è un altro software, che è un altro linguaggio che ti fornisce a un livello più alto. Noi mettiamoci nella condizione un pochino più morbide, un pochino più facile, quindi lavoriamo con linguaggi di alto livello sapendo che però alla fine la macchina, poverina, deve lavorare a basso livello e eseguire la CPU esegue le istruzioni che trova dentro il calcolatore una per volta. Se vogliamo fare un parallelo, un programma un po' come una ricetta di cucina, dove tu hai un software che sono delle istruzioni da seguire, è leggibile ma non importa, queste sono le istruzioni da seguire nella ricetta che si basa su certi ingredienti, quindi questi sono i dati di input e questo qua è il software che ti dice come manipolare i dati di input. e però per manipolare i dati di input hai bisogno di strumenti, hardware, perché c'è scritto frullare e ti serve il frullatore, c'è scritto scaldare e ti serve la fiamma, quello è l'hardware. Qui se tu hai il frullatore ti permette di fare una serie di ricette, da solo il frullatore non fa niente, se non sei tu a usarlo, se non sai tu cosa metterci dentro, per quanto tempo frullare, a che velocità eccetera eccetera. È uno strumento a disposizione del software che a un certo punto può dire frullare e quindi è un tipo di azione che la macchina, il sistema, l'hardware sa fare, sa compiere. Quindi noi abbiamo delle capacità intrinseche dell'hardware, l'hardware sa fare certe cose, questo dipende dalla CPU e oramai la CPU moderna se non fare, diciamo, qualunque operazione di base, ma da sole non fanno nulla, se tu accendessi un computer senza software lui rimarrerebbe fermo all'infinito chiedendosi cosa devo fare, da solo non sa fare nulla. Quando tu ci metti dentro un software lui parte a eseguire uno dopo l'altro le varie istruzioni, questa, 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 fino ad arrivare al fondo. Queste istruzioni a un certo punto dicono prendi una cosa e questa cosa è un dato, viene in ingresso e poi viene lavorato in un certo modo. Noi ovviamente siamo interessati all'output e adesso avvicinandoci a mezzogiorno cerco di cambiare slide per evitare dei crolli glicemici qua in aula. Ma l'idea è questa, tra l'altro se voi non siete bravi a cucinare, quando leggete una ricetta non capite nulla. A volte ci sono alcuni passaggi, danno per scontato alcuni passaggi che non sono per nulla scontati. Io, se vogliamo, alcuni si lamentano che il linguaggio di programmazione è un po' criptico di imparare dei codici strane, ma avete mai aperto un libro di cucito e ricamo o uncinetto? È una cosa, cioè, dico, è più facile risolvere, rimane in mistica che capire che cosa dice, o perlomeno usano un linguaggio che a me è totalmente ignoto. Quindi non è nuovo nel nostro mondo umano di avere dei linguaggi specializzati, è un software quello, ti dice come fare a fare ricamo? Ti dice fai 27 cazionelle e poi vai, non so neanche dirlo, scusate. Però ti dà delle istruzioni che tu esegui, sei tu la CPU, che esegui però con degli strumenti, con dei dati di ingresso che sono i fili e alla fine hai il tuo oggetto ricamato, fatto e finito. Quindi l'idea è la stessa, semplicemente quello che abbiamo che l'hardware è un calcolatore, quello che il software sono codice di un programma in un linguaggio di programmazione e quello che abbiamo alla fine è un programma finito, mettiamone uno non troppo noioso, non sempre il solito programma per fare le statistiche, ma anche un videogame alla fine funziona nel stesso modo. Noi ovviamente siamo concentrati su come faccio a scrivere questo per ottenere questo. Questo è ciò che io voglio ottenere, è il mio punto di partenza, questo è il mio punto d'arrivo che è l'istruzione alla macchina per ottenere l'obiettivo. Vabbè qui ci sono parallele che abbiamo già detto. Questo l'abbiamo già detto la volta scorsa, che programmare è un'attività creativa, che alla fine anche Michelangelo usava del marmo, che è un oggetto inerro, adesso noi non siamo Michelangelo, ma alla fine ciò che produciamo è un file di testo dentro cui scriviamo il programma. Quindi quella è la forma fisica del software, un file dentro cui scriviamo l'istruzione di programma. Del programma che risolve il problema, o meglio di un programma che risolve un problema, perché non esiste mai una soluzione, questo l'abbiamo già condiviso la volta scorsa, ma ne esistono molte diverse. Più o meno efficienti, più o meno veloci, più o meno eleganti, più o meno facili da debaggare, più o meno facili da far evolvere, eccetera. Quelle sono tante qualità aggiuntive che può avere un software, ma la qualità primaria è il software risolve il problema per cui è stato creato, in uno dei tanti modi possibili. Quindi noi alla fine scriviamo codice dentro come si vede nei telefilm, gente che batte i tasti furiosamente, i vari telefilm di CSI e cose simili, cosa scrivono? Beh l'attività di programmazione non è l'attività di scrivere il codice, è sapere quale codice scrive, è ragionare nella propria testa prevedendo che cosa farà il computer quando incontrerà quali istruzioni, in modo che facciamo in modo che faccia la cosa che ci serve. Questa è la parte creativa della programmazione, devo inventare un metodo per risolvere un problema e devo saperlo totalmente bene da poterlo insegnare a uno, a un oggetto che è molto stupido, che non ha iniziativa, che non è in grado di capire se c'è un caso particolare a cui non avevo pensato prima. Devo pensare prima a tutto. Analizzando ogni volta il problema. Non è possibile passare dal problema al programma. Sono mondi troppo distanti. Io vorrei questa soluzione, dammi un programma che mi dia questa soluzione. E no. Il calcolatore non può sapere qual è il metodo per arrivare la soluzione. Questo è ciò che devo fare io. Insegnare al calcolatore il metodo per trovare la soluzione a quel programma, a quel problema. A volte non ci arrivo in un passo solo, a volte ci devo, anzi quasi semplici, ci devo arrivare per piccoli passi. Il problema della volta scorsa è un problema relativamente semplice, però già anche lì l'abbiamo scomposto in due o tre passaggi. Prima separa i nomi, poi conta, poi metti in ordine, eccetera, eccetera. E ciascuno di questi passi sarà un frammento del programma che quindi via via cresce avvicinandosi sempre di più alla soluzione complessiva. Quindi non c'è mai, ok ho letto il testo, scrivo il programma, lo faccio partire. Ho letto il testo, mi faccio un'idea di cosa voglio ottenere, ok cominciamo a risolvere questa prima parte del testo e scriviamo un pezzo di programma che risolva questa prima parte e la verifichiamo. Ok, allora poi una volta che ho questi dati, che ho fatto questa elaborazione, qual è il passo successivo? E aggiungo un pezzo delle funzionalità, quello che qua chiamiamo raffinamenti successivi del programma, il programma via via migliore. Ok, in una prima versione non teniamo conto dei nomi multipli, poi dopo l'andiamo a modificare per tenere conto anche di quello che è una complicazione, ma la complicazione la aggiungo una volta che ho la versione base già completa e finita. Quindi è un processo interattivo che si svolge in modo diverso per ogni programma, per ogni problema che vogliamo affrontare. Quindi è molto difficile, tra virgolette, copiare, non sto parlando dell'esame, sto parlando in generale, di programmare una soluzione copiandola da un altro problema simile che ho già avuto. Sì, ci sono dei punti comuni che si ripetono, certe operazioni che si ripetono, ma poi vengono combinati in un modo diverso, per cui anche i punti all'uncinetto sono 4 o 5 punti base finiti, ma a seconda di come li combini ottieni cose completamente diverse. Allora noi dovremmo acquisire la buona conoscenza dei passaggi di base, quindi le istruzioni del linguaggio e i blocchi di istruzioni del linguaggio per ottenere, diciamo così, le elaborazioni di base, che poi combineremo in modo diverso a seconda del problema. Questo diagramma è un po' simile a quello che abbiamo visto la volta scorsa, chiama le cose in un modo leggermente diverso, il problema è sempre lo stesso, qui chiama soluzione informale e soluzione formale i due passaggi del ragionamento di progettazione. Il lunedì questa parte che qui è chiamata soluzione informale io l'avevo chiamata idea. Abbiamo un'idea, si può risolvere così, però per poterla trasformare in un programma questa idea la devo analizzare e spezzare in vari passi, che non sono ancora istruzioni in un linguaggio di programmazione, ma sono la decomposizione della strategia in una serie di passaggi operativi. Qui si chiama istruzione formale perché il suggerimento è questa decomposizione, non falla nella tua testa. Falla su un pezzo di carta. Falla su un pezzo di carta per aiutarti perché la tua testa non è abbastanza grande, non è abbastanza capiente per poter comprendere o vedere contemporaneamente tutti i passi del programma. Sapete cosa? Si dice che la mente umana è in grado di ricordare, quando fai un elenco di cose, una sequenza di cose, ricordarne cinque più o meno due. Quindi da tre a sette. Normalmente il più si usa per le donne e il meno per gli maschi perché sono oggettivamente meno capaci. E' un programma in sette istruzioni. Non è finito. Quindi abbiamo bisogno di usare un'espansione di memoria. Il nostro cervello non basta. Il cervello usiamolo per ragionare, sul perché, ma il cosa, affidiamolo, diciamo così, a degli strumenti esterni. Che alla fine sarà il programma che concentra il risultato distillato del nostro ragionamento. Ma nei passi intermedi mi aiuto con due forme che normalmente sono o lo cosiddetto pseudocodice oppure i diagrammi di flusso. Sono strumenti che mi aiutano a fissare su carta il ragionamento che sto facendo. Per aiutarmi a non dimenticare dei pezzi, per ragionarci sopra guardandolo, ad un livello che è ancora più vicino a me e non ancora così vicino al linguaggio di programmazione, perché poi a un certo punto devo scendere a livello del linguaggio di programmazione, ma a un livello troppo basso per poter avere la vista d'insieme. A un certo punto poi la perdo la vista d'insieme e vado avanti riga per riga a elaborare i dati. Non so più bene perché lo sto facendo o quale sottoproblema sto risolvendo. Ma nelle fasi iniziali, per ragionarci, mi aiuto con degli strumenti. Questi sono due esempi. Poi è chiaro che se il programma è semplice e voi siete esperti, questa parte qua non dico che la saltate, ma la fate in mente. La fate nella vostra mente. Ma comunque c'è la fase in cui dico ok allora mi vedo davanti a me i passaggi. Quando sono troppi aspetta un attimo, proviamo a farci un disegno. io mi trovo molto bene personalmente a lavorare più con un pseudocodice che è di fatto un po' come facevo lunedì. Apro un editor di testo e ci scrivo dentro cose, in modo ordinato, in modo schematico. Altri invece preferiscono lavorare in modo più grafico, appunto con il flowchart, adesso vedremo di che cosa si tratta. Quindi i disegni degli schemi bidimensionali con le frecce, i blocchi eccetera. Questo è una cosa molto personale. Io vi accendo entrambe le modalità in modo che poi ciascuno di voi possa usare quella che è di più congeniale. Io forse perché scrivo il disegno malissimo il flowchart non riesco a gestirlo, no? Mentre invece scrivendo la tastiera è un mio handicap che mi porta più da un versante piuttosto che l'altro. Ma questo solo per dirci che attenzione non passiamo mai dall'idea al programma, ma l'idea dobbiamo un attimo maturarcela, dobbiamo un attimo espandercela. Ok, qui salto le cose che abbiamo già detto. Chi ricorda cosa ci serve per la parte di problem solving e va bene. Allora, introduciamo, poi andiamo ad esempio, il concetto che si sente in giro di algoritmo, no? Che è un termine un po' strano per indicare il metodo risolutivo di un problema. quando dicevamo abbiamo bisogno di formalizzare la soluzione in una serie di passi, allora questi passaggi, indipendentemente dal linguaggio di programmazione in cui sono scritte, prendono il nome di algoritmo, cioè procedimento in certo senso, ta-du-raise dove si usa una parola italiana. Il Lego che tutti voi conoscete, alla fine quando voi comprate l'hardware, c'è uno scatolo di Lego, arriva col software, cioè le istruzioni per montarlo. E guardiamo cosa c'è nelle istruzioni del Lego. C'è una serie di passi numerati, a prova di scemo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Prima fai il passo uno, poi fai il passo due. Quando fai il passo uno, non capisci cosa stai facendo. A cosa serve mettere insieme quei due pezzi? non lo so. Mi fido che chi ha scritto l'algoritmo, chi ha scritto le istruzioni, sappia che fare quel passaggio lì mi serve per arrivare al risultato finale. Quindi quando stiamo montando dei Lego, ci fidiamo, eseguiamo una dopo l'altra le istruzioni senza sapere perché, senza capire perché stiamo facendo una certa cosa. Non è necessario, poi magari la capiamo, ci piace, oh che figo, ora questo qua è il portellone d'ingresso o quello che sia. Ma quella è una scoperta che facciamo dopo, facendo, anche per una gratificazione, ma nel montaggio, nell'operazione di montaggio, non è necessario capire cosa stai facendo. È necessario seguire le istruzioni nell'ordine giusto, usando i dati giusti, quindi devi usare questo pezzo e quest'altro, e li metti insieme in questo modo, se non sbagli. Quindi una sequenza di passi, ciascuno dei quali usa certi dati, o dati in ingresso, nuovi, oppure il risultato di elaborazione dei passaggi precedenti. Quindi questo pezzo qua che ho montato diventa la base su cui montarne altri dati. Quindi questi dati sono dei dati in ingresso che generano dei dati in uscita che a sua volta però sono gli ingressi per il passo successivo. E alla fine, chiaramente, all'ultimo passo questo sarà l'oput finale. Una serie di passaggi, operazioni sequenziali l'uno dopo l'altra. Tra l'altro ci sono alcune operazioni che sono più complesse, quindi come vedete le istruzioni sono decomposte. Quindi fatti questo e poi montalo qua. Qui c'è una sottoperazione che devi fare a parte e poi quando hai finito quella integra il risultato nella sequenza principale. Noi parleremo di funzioni quando faremo cose di questo genere. Anziché scrivere tutto il programma in un'unica sequenza, a un certo punto una parte del programma e una sottosequenza la metto da un'altra parte per tenere ordinata, per tenere separata, la chiamerò funzione e poi dico ok, in questa funzione a un certo punto uso questa funzione per fare questi passaggi. E poi il risultato viene riportato nel programma principale. Quindi le idee ci sono tutte. L'idea che qua non c'è è quella che invece è fondamentale in qualunque algoritmo è quella delle ripetizioni. Cioè una certa operazione la ripeto più volte, monta sette pezzi di questo tipo, ma l'ultimo magari farlo diverso. Un programma normalmente costituito da un certo numero di istruzioni ma al suo interno quasi sempre ha dei blocchi di istruzioni che sono ripetuti più volte. l'esempio del lunedì scorso io ripetevo più volte l'operazione di prendere una persona e sommare uno al nome. Quindi l'operazione è banale, prendi una persona, vai a vedere il suo nome, se c'è già somma uno. Però questa operazione la ripetevo tantissime volte. in quel caso uno per ogni dato di ingresso, ma poi non è detto. Quindi queste sono un po' tradotte in un linguaggio diverso da quello visuale dell'ego, i concetti che dobbiamo mettere insieme per costruire un algoritmo. Facendo attenzione di metterli insieme in un modo comprensibile, stavo per dire comprensibile chi li deve eseguire ma non si può perché abbiamo detto che chi li esegue non comprende, non è in grado di capire. Il cui effetto sia corretto quando vengono eseguite da chi li esegue senza capire. Questo potrebbe essere un semplice algoritmo, una classica barzelletta triste dagli informatici, dice caro per favore esci, vai al supermarket e prendi una bottiglia di latte, se hanno delle banane prendine sei. Ovviamente se io questo qua lo dicessi a un computer il risultato è che la persona è arrivata a casa con sei bottiglie di latte e zero banane. Perché? Mi ha detto che se ci sono le banane prendine sei di latte. Non ho mai detto di prendere banane. Prendi una bottiglia di latte, se ci sono le banane prendine sei bottiglie di latte. No? Voi dite ma no, non è capito niente. Esatto. Il computer non capisce niente. Questo è così, facciamoci una ragione e dovremmo spiegare meglio, come tutte le mogli dicono ai propri mariti. No? Quindi ricordiamoci che passaggi che possono essere per noi intuitivi quando li traurremo in un linguaggio di programmazione cessano di essere intuitivi e se sbagliamo qualcosa il programma fa una cosa. Perché fai questo? Perché te l'ho detto io. Alla fine purtroppo quando il programma fa le cose strane sono sempre io che gli ho detto una cosa sbagliata da fare, no? Perché non avevo capito. Quindi questo concetto qui prende il nome appunto di algoritmo che è una serie di passi formalizzati per risolvere un certo problema. Quindi noi nella nostra mente la prima cosa che ci formuliamo, dicevo prima una strategia, affronto così, poi converto la strategia in un algoritmo, una serie di passi e converto l'algoritmo in un programma, una serie di istruzioni scritte nel linguaggio di programmazione. Questo algoritmo per aiutarmi a svilupparlo lo posso sviluppare in parte in mente, in parte come pseudo codice, in parte come diagramma di flusso, no? Sono strumenti che mi aiutano a sviluppare gli algoritmi che sono ancora elementi del mio mondo, del mio mondo del ragionamento mentale, non ancora del mondo della macchina che è un mondo di esecuzione senza capire. L'algoritmo mi aiuta a capire quali sono i passaggi. L'algoritmo deve essere preciso, non ambiguo. Se io scrivo dei vari passaggi e un determinato passaggio può essere interpretato in due modi diversi, vuol dire che non l'ho capito bene, vuol dire che non l'ho espresso bene, vuol dire che c'è il rischio che quando lo tradurrò in un programma il programma farà la cosa sbagliata. Quindi dobbiamo essere i peggiori maestri di noi stessi, peggiori nei sensi più cattivi. Essere molto sospettosi di quello che pensiamo e quello che scriviamo e chiederci ma questo qua è chiaro, non è ambiguo, si può capire in un modo solo, lo saprei spiegare, posso farti un esempio, sono sicuro di poter fare un esempio di questo passaggio? Perché solo così saremo poi sicuri di poterlo tradurre in un programma. Deve essere eseguibile, cioè un algoritmo non deve pretendere di fare operazioni che l'hardware non è in grado di fare. O per mancanza di informazioni, quello che dicevamo, il nome in quest'aula, è un'informazione che non c'è, quindi non posso mettere un algoritmo, usa questa informazione quando il programma non ce l'ha, il calcolatore non può avere, non può sapere chi c'è qua ma può sapere chi è iscritto. Oppure, non devo far fare operazioni operazioni che lavorino su dati che non sono in mio possesso e non devo fare operazioni che richiedono risorse di calcolo maggiori di quelle che ho, quindi se io dicessi, guarda, calcola tutte le combinazioni di 100.000 elementi e 100.000 fattoriali non ci sta nella memoria del calcolatore, 100.000 fattoriali di elementi non ci stanno, quindi un'operazione, sì sì, l'algoritmo concettualmente può anche essere giusto ma poi non è praticamente eseguibile. come alcuni tipi di dimostrazioni matematiche, ce ne sono alcuni che sono costruttive, che ti portano al risultato, altre che ti dimostrano che il risultato esiste ma il metodo per arrivarci richiederebbe risorse infinite e che non abbiamo, no? Quindi ovviamente l'algoritmo deve portare una soluzione, quindi tra le varie strade teoricamente possibili devo scegliere quelle operativamente possibili. E poi un algoritmo deve essere, deve garantire di terminare. Prima o poi, dopo un millisecondo, 10 secondi, 4 minuti, 200 anni, ma un risultato me lo deve dare. Un algoritmo non può girare all'infinito e non darmi mai il risultato, se no non serve nulla. Non lo chiamiamo algoritmo, non ti do neanche un nome, è un errore. In realtà noi il concetto di algoritmo già ce l'abbiamo ogni volta che applichiamo una regola per fare qualcosa, un meccanismo per fare qualcosa, no? Tutte le formule o i metodi, diciamo quelli che abbiamo imparato nelle materie scientifiche, nella matematica, eccetera, sono piccoli algoritmi. Alcuni si condensano in una formula, alcuni si condensano in una piccola procedura e sono ad un'unicazione di secondo grado, tu sai cosa devi fare, beh c'è la formuletta ma devi vedere se ci sono i vari coefficienti, farlo 10 quadrati, eccetera, eccetera. Il massimo comune diviso tra due numeri, abbiamo imparato, allora devi fare, dunque scomporre i fattori primi uno, scomporre i fattori primi l'altro, poi prendere tutti i fattori come comuni e non comuni, con la massima potenza, una cosa del genere, no? L'abbiamo imparato, la regola, l'algoritmo, e abbiamo imparato ad eseguire questo algoritmo. Che tra l'altro si basava su un altro algoritmo, perché quando dicevi prendi due numeri e scomponi in fattori primi, a sua volta avevi, no? No. Sotto algoritmo che è come fare a scomporre un numero in fattori primi. E usavi l'output di questo sotto algoritmo per l'algoritmo più complicato di massimo comune divisore. E poi se devo fare col calcolatore non lo faccio di sicuro così, perché ci sono modi più rapidi al calcolatore di trovare lo stesso problema, quindi ci sono dei metodi risolutivi che sono più adatti ad essere fatti a mano, altri metodi risolutivi che sono più adatti invece ad essere fatti al calcolatore, no? Calcolare pi greco con cento di decimali io non lo farei a mano, per favore, però magari un algoritmo per il calcolatore c'è e non è neanche difficile da fare, no? Vabbè, questo riservo, questo è... Ad esempio, semplice problema, dati due numeri, calcolare il massimo tra questi due numeri, 7 e 9. Quale è più grande? Voi mi dite 9. Ok. Come sempre non me ne frega niente del risultato, ma quello che mi chiedo è come avete fatto nella vostra mente a decidere che 9 era il massimo tra 7 e 9? Che operazione abbiamo fatto? E queste operazioni le dobbiamo descrivere in un modo che funzionino, cioè mi diano il risultato corretto qualunque siano i due numeri che ho davanti. Qui tu probabilmente avrai detto, beh, allora, confronto... Ho due numeri, confronto se il primo è maggiore o il secondo. Mi chiedo, 7 è maggiore di 9? Se so cosa vuol dire maggiore, conosco dentro di me predefinito l'algoritmo di maggiore, la domanda che mi faccio è, il primo numero è maggiore o il secondo? 7 è maggiore di 9? No. Allora, se la risposta a questa domanda è sì, il massimo sarà il primo numero. Se la risposta a questa domanda, come nel nostro caso, è no, allora il massimo sarà il secondo numero. Questo è un possibile algoritmo che posso applicare sempre. il massimo tra, non so, 10 e 2. Allora mi faccio... 10 è maggiore di 2? Sì. Allora è 10 il massimo. 7 e 7. Già avevo pensato che potevano essere uguali. Allora il mio algoritmo che si chiede se A è maggiore di B funziona lo stesso con 7 e 7? Sì. 7 è maggiore di 7? No. E allora il risultato del massimo è 7, cioè il secondo elemento, che sanno uguali, chi si frega. No? Sono indistinguibili. Mi dà il risultato corretto. In questo caso, sono stati fortunati perché un aspetto a cui non avevamo pensato all'inizio in realtà, c'è il fatto che i numeri potevano essere uguali. Qualcuno potrebbe dire, no, ma guarda, devi controllare prima se sono uguali o no. In questo caso, anche senza controllare prima, sempre per il solito il fattore C, il risultato viene corretto. Allora, qualcuno qua ha provato a scrivere del pseudocodice che riassume questo ragionamento. Dice, allora, il massimo... Inizialmente non so qual è. Quindi diciamo che un certo max che non so qual è ci mette un valore a caso. Mettiamo 0 a caso. Poi facciamo un confronto. Confronta se A è maggiore di B. E secondo questo confronto, se è vero il risultato di questo confronto, fai una certa operazione, altrimenti fai un'altra operazione. Queste due operazioni aggiornano, modificano il valore del max che c'era scritto sopra. Prima ci ho messo un valore a caso. Poi quel valore so che non è quello giusto, e infatti dovrò rimpiazzare questo valore o con A o con B. E alla fine il valore è la variabile max che abbiamo calcolato. E' il risultato del problema che ci ha sopposto. Questo è il valore del pseudocodice. Abbiamo dovuto inventare delle convenzioni. Magari abbiamo messo 1, 2, 3 per indicare l'ordine. Abbiamo inventato un modo per dire se, allora, altrimenti. Per dire guarda che devo fare cose diverse a seconda dei casi. Prima parola ho detto se questa domanda ha risposta sì o risposta no, farò cose diverse. Sarà il primo o sarà il secondo. E quando ho detto sarà il primo l'ho riassunto dicendo mettiamo il primo numero dentro un contenitore, diamogli un nome che si chiama max, altrimenti questo nome max lo diamo al secondo elemento. Quindi è stato un modo per ricordarmi, ricordate, l'output di un'operazione diventa l'input di quella successiva, per ricordarmi l'esito di un'operazione che avevo fatto prima. Tra l'altro operazione che in questo caso non è un'operazione di calcolo, quindi i calcoli non ce ne sono, ma di confronto. Qui l'unica operazione aritmetica non c'è più o meno per diviso, c'è maggiore. Che poi è una sottrazione. Maggiore vuol dire fare A meno B e vedere se il risultato è positivo o negativo, dentro il calcolatore. Però noi la concepiamo con un confronto che non con un'operazione. quindi questo è la formulazione tramite pseudocodice. Per il pseudocodice non c'è una sintassi, diciamo così, definita, esatta. Ognuno se lo inventa un pochino come vuole e col livello di dettaglio che preferisce. All'inizio dovremmo scrivere a un livello di dettaglio maggiore perché stiamo imparando, a un certo punto in avanti alcune operazioni. Se devo calcolare il massimo scriverò semplicemente max tra A e B. Per me questi tre passi dopo un po' sarà semplicemente scriviamo max tra A e B. perché so che questo passaggio lo so fare. E quindi non è il caso che io ogni volta vada a scrivere a livello più basso. Io stesso, man mano che vado avanti, man mano che imparo, userò per me stesso, quindi al livello di pseudocodice, un linguaggio di programmazione più semplice. Ok, quando a un certo punto una cosa diventa per me meccanica, senza offesa per i meccanici, ma che vuol dire che semplicemente con una serie di passaggi in cui non devo più pensare ma semplicemente tradurre, fare, allora non è necessario che lo faccia ogni volta a livello più basso, più dettagliato. Ma man mano che vado avanti, certe operazioni che alla fine si ripetono sempre o sono sempre lo stesso tipo, le do un po' per scontate, gli do un nome e vado avanti. La stessa cosa, se io la volessi ottenere o rappresentare a livello di pseudocodice, avrei disegnato una cosa di questo genere. Ho due valori a e b, la prima cosa che faccio è chiedermi se è maggiore di b e a seconda che a maggiore di b sia vero o falso, devo fare operazioni diverse. La prima, se a maggiore di b è vero dirò che il massimo è uguale ad a, se invece è falso dirò che il massimo è uguale a b. Quindi rappresento, diciamo così, su un foglio le varie operazioni da fare e l'algoritmo, la sequenza di esecuzione dell'algoritmo è determinata dalle frecce. Adesso qui non ho fatto tutto perché volevo introdurvi ancora la convenzione in cui le operazioni di calcolo, di solito, vengono rappresentate all'interno di un rettangolo, dopo di che questo è l'avvio del programma e poi alla fine avrò la terminazione del programma. Start e stop. Questo è lo stesso algoritmo di prima. Prima l'abbiamo scritto sotto forma di pseudocodice, qua lo stiamo scrivendo sotto forma di diagramma di flusso. È una simbologia diversa ma l'informazione che c'è è la stessa. Dipende cosa ci troviamo meglio a visualizzare, cosa si sintonizza meglio con il nostro modo di ragionare, con il modo in cui abbiamo in mente il nostro algoritmo. Sono assolutamente metodi equivalenti. È chiaro che per capire questo, che sia lo pseudocodice che sia il diagramma di flusso, dobbiamo metterci d'accordo su che cosa vuol dire maggiore, su che cosa vuol dire maggiore, su che cosa vuol dire uguale, su che cosa vuol dire vero o falso. Cioè usiamo un linguaggio di base che condiviso con la macchina, che poi alla fine il calcolatore queste cose deve saper fare. Quello che dicevamo deve essere eseguibile. Quindi sto usando dei simboli delle operazioni che la macchina poi può comprendere. non posso inventare le operazioni trampalate, se poi la macchina non le supporta o le insegno come farle, quindi decomponendole oppure diventa un esercizio di filosofia, non di programmazione. Volevo fare un altro esempio, massimo condivisore. Ci ricordiamo cosa è massimo condivisore. Dati due numeri, il massimo condivisore del numero è un numero più piccolo dei due di partenza, o minore uguale ai due di partenza, che sia divisore di entrambi. Cioè ad esempio tra dieci e otto, massimo con un divisore, due. Deve essere un numero che sia divisore di dieci, i divisori del dieci sono due, uno e cinque, e divisore di otto, che come divisore è solamente uno e due. Due alla terza. E quindi il massimo condivisore è, in questo caso due, perché divide dieci e divide otto, senza resto. Questa è la definizione della scuola elementare. richiede di decomporre quello che vi ho convinto che è due, perché vi ho applicato l'algoritmo che abbiamo imparato alle medie. Decomponi in fattori primi, così vedi quali sono i pezzettini dei divisori. Ma avendo un calcolatore magari c'è un modo più furbo. Qui c'è un'idea, più furbo, scusate, diverso, più semplice. Dice, senti, ma allora visto che deve essere un numero, il massimo condivisore, completo tra uno e a, o b, deve essere minore o uguale sia ad a che a b, posso provarli tutti. Uno, è divisore di otto e di dieci? Uno è divisore di otto, sì. Uno è divisore di dieci, sì. Magari è lui, l'MCD. Poi va davanti. Due. Due, è divisore di otto? Sì. È divisore di dieci? Sì. Vabbè, allora è meglio lui di uno. Buttiamo via uno e teniamo il due. Tre, è divisore di otto? No. Quattro, è divisore di otto? Sì. Quattro, è divisore di dieci? No. Allora non va bene. Andiamo avanti. Qual era quello che aveva entrato da parte? Il due. Che era l'ultimo che andava bene. Cinque, è divisore di otto? No. È divisore di dieci? Ma pazienza. Non è di otto, quindi non mi serve. E quindi non è difficile provarle tutte, tra virgolette, i valori, e tenere da parte il più grande valore che è riuscito a dividere correttamente sia a che b. se a e b fossero 940 e 1206, magari a mano non lo faremmo. Ma non dobbiamo fare da noi a mano. Dobbiamo fare il calcolatore. e fare mille confronti per un calcolatore, non abbiamo neanche tempo di cliccare che il risultato è già pronto. Mentre invece di dire prendi i numeri e fare le decomposizioni in fattori primi, non lo so fare. o è più complicate, se non è che non lo so fare. Ci metto più tempo. Quindi, algoritmi che a mano non useremo mai magari al calcolatore sono comodi. Algoritmi che al calcolatore non useremo mai al calcolatore magari sono comodi a mano. Quindi, la scelta dell'algoritmo dipende dalla macchina che lo deve eseguire. Intendendo come macchina anche noi stessi. E dipende anche dal linguaggio di programmazione in cui lo scrivo. Ci sono alcuni linguaggi di programmazione in cui è più facile esprimere certi algoritmi e altri linguaggi invece in cui è più facile esprimerne altri. Ho tutto a parità di soluzione. Cioè alla fine devo uscire due. E' da quella roba. Deve uscire due. Come lo faccio uscire? Dipende da tanti fattori. Quindi, in questo caso, noi potremmo, che ne so, ad esempio, provare a formalizzare l'MCD sotto forma del servo codice calcola l'MCD tra A e B, no? Con quell'algoritmo che è accennato nell'idea. Proviamo a formalizzarlo un po' di più. Allora, come primo passo dico, proviamo a dire se MCD proviamo a metterlo a 1. Ok? 1 funziona sempre. Funziona sempre. Poi, facciamo una prova. Proviamo a prendere l'MCD partiamo da 2 magari. 1 sappiamo che va bene sempre. Proviamo con 2. e mi chiedo se A è dividibile per prova e B è dividibile per prova questo è quello che facevo, no? Prendevo il numero di prova e mi chiedevo, è dividibile per il primo? Sì, no? È dividibile per il secondo? Sì, no? Poi, mettiamo da parte cosa vuol dire è divisibile. Lo saprà fare il computer, no? Ci spezziamo tra un attimo. L'importante per ora che sia chiaro per noi. Poi, raffinamenti successivi. Man mano andiamo poi a prendere i sottoproblemi li spezziamo, li analizziamo, li vediamo più concreti, più di basso livello. Però per noi che siamo studiati di matematica sappiamo cosa vuol dire divisibile. E, occhio, sembra banale ma sappiamo anche cosa vuol dire E. Che deve essere divisibile per A e anche contemporaneamente lo stesso numero deve essere divisibile per B. Non basta che sia uno solo dei due. Ok. Se è vera questa cosa qui allora ho due sottocasi fatemi chiamare 3.1 allora oppure 3.2 altrimenti. Allora perché questo è un se. Il risultato può essere vero o falso. Se è vero dico faccia certe cose altrimenti se è falso quindi diciamo così se è vero allora vuol dire se che la clausola 3 è vera. il confronto il confronto fatto al punto 3 è vero. Altrimenti lo dico se il punto 3 è falso. Per non dire se il punto 3 è vero fai questo, beh allora usiamo delle delle abbreviazioni come se allora altrimenti che poi si mappano si mappano molto bene anche su linguaggi di programmazione ma per forza perché i linguaggi di programmazione li abbiamo inventati proprio per aiutarci in questo tipo di cose. Allora cosa devo fare se è vero? Devo dire che il numero di prova è una stima dell'MCD migliore di quella che avevo finora. devo ricordarmi questo qui e quindi dirò che l'MCD è uguale a prova. Cioè ho trovato un numero di prova che è è un divisore comune sì è il massimo divisore comune non lo so ma è maggiore del divisore comune che conoscevo prima e quindi di sicuro è meglio. Non so se è lui il massimo se arriverà qualcuno più bello di lui dopo ma lui è il massimo. Altrimenti passo al numero successivo. Quindi incrementa prova che poi si scrive prova uguale a prova più uno o in altri quattro modi diversi ma non importa. Prendo il valore dal 2 ci ho provato è andata bene è andata male passo al 3 passo al 4 passo al 5 Allora questo programma che ho scritto finora questo programma che ho scritto finora cosa fa? Mette MCD uguale a 1 prova a vedere se 2 è il divisore comune e poi si ferma perché non gli ho detto che in realtà deve continuare dopo il 2 devo provare il 3 dopo il 3 devo provare il 4 quindi dovrò dirgli dopo che ha fatto questo torno al punto 2 perché se no si ferma e lui mi dirà l'MCD è 1 se i numeri sono primi tra loro oppure l'MCD è 2 non se ne sono primi tra loro perdono se almeno uno dei 2 è dispari oppure mi dirà 2 se entrambi i numeri sono pari che non è la risposta alla mia domanda lui ha chiesto da darmi l'MCD e lui mi ha dato un'altra cosa una cosa che mi dice se ne sono entrambi pari oppure no che dal suo punto di vista ho fatto bene ma non è quello che volevo risolvere dimmi si lo dico tra un attimo ok dopodichè questo non è un algoritmo perché va avanti per come l'ho scritto va avanti all'infinito non si ferma mai quindi a un certo punto quando ci accorgeremo che lui sta provando se 12 miliardi 318 milioni 615 mila 906 è un divisore di 2 o di 8 scusate o di 10 e lui va avanti così così gli ho detto quindi torna al punto 2 non deve essere fatto sempre ma deve essere fatto solo se il valore di prova non è troppo grande quindi allora questo qui dovrà essere il punto 4 sarà se prova non è troppo grande 4.1 allora torna al punto 2 e quando prova è diventata troppo grande fermati smettila di tornare al punto 2 e quindi andrai al punto 5 stampa il valore dell'MCD allora questo programma ha ancora un po' di errori là dentro però prima di arrivare agli errori vediamo se siete tutti d'accordo su cosa sta facendo questa macchina più o meno ok sta cercando di ho cercato di spaccare la mia mente il mio ragionamento di prima in tanti passi elementari questo programma è sbagliato ve l'ho detto adesso andiamo a ragionare sugli errori però se entrasse da quella porta qualcuno adesso e vedesse ciò che c'è scritto io gli cancello la prima riga sarebbe in grado perfettamente di calcolare di calcolare dati A e B calcolare un risultato che solo noi sappiamo che è l'MCD o meglio mi direbbe aspetta un attimo ma non è che è il punto 4 troppo grande per chi ma prima abbiamo detto che i vari passi di un algoritmo devono essere non ambigui troppo grande è la cosa più ambigua che mi posso inventare allora riusciamo a tardare gli altri no no l'altro è un po' complicato da leggere quello della riga 3 ma è chiaro ma troppo grande non mi piace quindi questo è un primo problema dobbiamo specificare meglio cosa vuol dire troppo grande se no questo è ambiguo il secondo problema che vedo io perché magari ci sono altri è questo come diceva il vostro compagno magari qualcun altro che stanno agitando giustamente è sbagliato questo sapete cosa fa questo algoritmo parte da 1 mette prova a 2 a è divisibile noi abbiamo sempre 8 e 10 è divisibile per prova è divisibile per prova sì 8 è divisibile per 2 sì 10 è divisibile per 2 sì allora mcd uguale 2 bene e poi va avanti non fa questo ovviamente ovviamente perché se questa condizione qua era vera fa il 3.1 e non fa il 3.2 ok prova non è troppo grande no è ancora 2 poveretto quindi non è grande per qualunque cosa voglia dire grande e allora torna al punto 2 e riprova di nuovo con 2 allora qua c'è un errore in più che non ho visto dovrebbe essere tornato al punto 3 non 2 punto 2 perché se torno al punto 2 ogni volta rimetto prova a 2 magari l'ho messo a 5 6 7 rimettelo a 2 e ricomincia torna sempre indietro no devo andare avanti quindi questo era un errore che non avevo visto ma l'altro errore è quello che adesso è a posto non 2 torno al punto 3 il problema è che il valore della prova quando sono tornato al punto 3 è uguale a quello di prima ho provato con 2 ho messo mcd uguale 2 e poi torno al punto 3 dove riprovo di nuovo per 2 e proverò l'infinito sempre solo per 2 ma perché? ma perché nel caso in cui il numero fosse sbagliato cioè non fosse divisibile ho incrementato la prova e passo al numero successivo ma nel caso in cui il numero fosse divisibile non l'ho incrementato ok allora aspetta dobbiamo fare così mcd uguale prova e incrementa prova se è divisibile non solo mi salvo quel valore ma poi incremento passo al numero successivo non lo faccio due volte lo faccio una volta sola l'ho scritto due volte è diverso e potrebbe scrivere una volta sola è la stessa cosa l'importante è che sia che la condizione sia vera sia che la condizione sia falsa io ad ogni volta che riparto dal punto 3 devo arrivare con un valore nuovo incrementato rispetto a prima sempre quindi in questo caso dico io l'incremento lo faccio sia nel ramo vero sia nel ramo falso oppure come diceva qualcuno di voi ma mettimelo qua quindi non lo fai qua non lo fai neanche più qua adesso però perché se no lo incrementi due volte nel caso in cui sia falso e quindi non è niente da fare qua se è vero salvo la prova nell'MCD se è falso vai avanti in ogni caso comunque vai avanti qui si deve mettere un numero davanti che dovrebbe essere lui un 4 e quindi l'altro diventa 5 e l'altro diventa 5.1 poi capite perché non si mettono i numeri ovviamente nella realtà allora così è già più giusto ok stiamo allenando la nostra mente a eseguire questo programma questo algoritmo siamo noi i computer in questo momento e dobbiamo per eseguirlo bene dobbiamo svestirci dalla conoscenza di che cosa sta facendo dobbiamo semplicemente eseguire nella nostra mente questi vari passaggi nel modo più assettico possibile solo così scopriamo eventuali mal funzionamenti così e grazie degli aiuti io quando qua avevo scritto 2 anziché 3 quando l'ho scritto non ho fatto apposta quello è l'errore pensavo fosse giusto mi sono accorto dell'errore quando ho cercato di spiegarvelo di spiegarvi come funziona quindi questo è fondamentale scrivi il codice e spiega come funziona e vedi che ti accorgi di molti errori che hai fatto lo sforzo di interpretarlo non spiegare cosa cosa vorrei che facesse quello è facile ma spiegare cosa effettivamente fanno le varie istruzioni a voce in alta a qualcuno che aiuta a trovare l'errore così come l'altro errore l'altro l'avevo fatto apposta a questo quindi non posso badare ma voi me l'avete detto quando tu vedi il codice di qualcun altro non sei condizionato dal ragionamento che lui ha in testa in quel momento e gli fa vedere le cose solo in un certo modo tu le vedi da fuori ma sta roba qua non ha senso non ci hai pensato non ti sei accorto sono tutti strumenti che ci aiutano in questo compito difficile che è quello di prendere un ragionamento intuitivo un procedimento intuitivo e spezzare una serie di passi formali corretti non ambiqui non è naturale non è spontaneo se vogliamo prendere una statistica dato dal mio errore qua in questo punto vuol dire che anche persone che programmano da 40 anni ogni 5 istruzioni fanno un errore anche quando sono osservati che stanno cercando di fare bella figura no? non c'è da vergognarsi di fare errori è normale è normale ok? l'importante è avere gli strumenti costruirci gli strumenti per riconoscerli per correggerli capire perché adesso qua l'abbiamo fatto solamente a mente ci siamo accorti che funzionava male analizzando lo pseudocologico che abbiamo scritto altre volte ce ne accorgeremo più tardi ci sembra tutto bene traduciamo in programma e il programma scutta fuori una cosa che non c'entra niente allora diventa più difficile capire perché cavolo quel programma non fa la cosa giusta perché ho sbagliato a scrivere le istruzioni o perché ho sbagliato il ragionamento che c'era a monte l'algoritmo e lì ci sarà da divertirsi però è normale io molte volte quando faccio esercizi qua con voi non me li preparo alcune volte sì ma spesso preferisco andare in diretta così perché così sbaglio voi mi aiutate a trovare l'errore mentre io scrivo la figata la 200 persone che ti corregge gli errori forse sempre così la qualità aumenta ma soprattutto sviluppiamo insieme vediamo insieme delle strategie per trovare e correggere gli errori perché se voi vedeste uno che fa sempre tutto giusto non imparate niente quando sarete poi nella condizione di avere un errore e non sapete come gestirlo quindi tranquilli ma questo lo dico anche per voi scrivete un programma non vi funziona niente è ovvio lo stato naturale dei programmi è di non funzionare è uno stato particolare il nirvana quando funziona ma normalmente non funziona ci deve arrivare per passi ok? quindi non vergognatevi scrivi un programma non funziona abbiamo un gruppo telegramma usatelo anche voi se no sembra riparare con i muri questa cosa qua esce fuori schifetto non mi funziona perché non funziona? ciascuno ha da imparare dagli errori degli altri ok? cioè tolto il giorno dell'esame per il resto siamo qua per aiutarci ok? allora abbiamo ancora sospeso un punto ambiguo giusto? se non ci sono altri ah scusate ancora un commento il fatto di dire questo incrementa prova qualcuno di voi diceva ma perché lo metti qua oppure l'avevi messo sia qua che qua mettiamolo temporaneamente ok? un occhio allenato vede immediatamente che le due cose sono equivalenti poi magari scegli di metterlo sotto perché lo scrive una volta sola scrivere le cose una volta sola permette di sbagliar di meno essenzialmente no? tipicamente perché puoi anche fare copia e incolla ma se poi dopo devi correggerlo incrementa prova di due unità anzi che di una ed è scritto in tre posti di sicuro lo correggi in due e non in tre no? perché tendimenti chi uno per strada no? quindi si cerca di avere di solito una certa anche sintesi no? nel programma cercare di ripetere operazioni in realtà che io lo scriva qua o che lo scriva sopra e sotto fa esattamente questa cosa il fatto che qua l'abbia scritto due volte non vuol dire che viene incrementato due volte perché o faccio questo o faccio quell'altro perché la condizione tre o è vera o è falsa non è che può essere vera e falsa contemporaneamente ok? quindi questi sono automatismi che diciamo così ci verranno naturali via via che facciamo questi tipi di ragionamenti il modo di svilupparsi di un programma qui abbiamo un programma che fa dei confronti dei controlli fa delle operazioni fa delle scelte e fa delle ripetizioni sono i quattro ingredienti dei programmi faccio dei calcoli incrementa di uno dividi per sette fai la divisione trova la calcola del resto della divisione fai dei confronti maggiore, minore, uguale fai delle scelte se è vero fai una cosa se è falso fai un'altra fai delle ripetizioni torna indietro rifare quello che hai già fatto prima più uno che è la sequenza cioè vai uno dopo l'altro queste stanno nelle dita di una mano sono i costrutti con cui costruire qualsiasi algoritmo si tratta di combinarli nei vari modi possibili a seconda di come li combino ottengo programmi diversi che è complicato perché vuol dire che qualunque ragionamento anche più complesso lo devo ricondurre a questi cinque poveretti sequenza scelta iterazione cioè ripetizione confronti e calcoli tutto deve essere espresso tramite un'opportuna combinazione di queste cose io qua questo algoritmo l'ho descritto con pseudocodice l'avrei potuto iscrivere tranquillamente come diagramma di flusso adesso se volete lo rifacciamo come diagramma di flusso per confronto per vedere che è la stessa cosa prima però di fermarci un attimo vorrei risolvere il punto cinque non è troppo grande quindi non è troppo grande vuol dire che è minore o minore o uguale a che cosa? quando è che mi fermo? a cento? mille mi è scappato uno zero mille no ad A Aubi Aubi andiamo per gradi se schiesti così sarebbe giusto o sbagliato? sbagliato? perché? perché è sbagliato? rifaccio la domanda meglio per me sbagliato significa che mi stampa un nmcd sbagliato allora allora è chiaro che questo ci mette un po' a disagio no? ma per che cacchio il confronto è? e B dove è finito? allora questo è giusto nel senso che arriva al risultato corretto se A è 8 e B è 10 lui arriva fino a A in realtà è sbagliato A7 qui c'è scritto perché prova minore di A 8 non lo prova mai che è sbagliato perché A potrebbe essere l'mcd quindi scusate questo è un errore minore uguale devo scrivere quindi arriva fino a 8 e si ferma lì va bene non ha senso andare oltre perché l'mcd non può essere mai maggior di A ma se A fosse 100 e B fosse 5 questo algoritmo va avanti a provare tutti i numeri fino a 100 anche se si potrebbe fermare benissimo a 5 ma semplicemente tutti i numeri maggiori di 5 non saranno divisori di 5 quindi questo algoritmo si ferma non va avanti all'infinito e non perde delle soluzioni ciò che fa fa del lavoro inutile da 6 a 100 fa delle prove di cui sappiamo già a priori potremmo già sapere a priori che il risultato è falso e quindi non possono essere dei buoni candidati ad essere un'mcd e allora uno dice vabbè ci interessa ci preoccupa che faccia del lavoro sì effettivamente magari riusciamo a farne uno migliore dicendo mi fermo è più piccolo tra A e B lo posso scrivere così oppure posso scrivere se prova è minore uguale ad A e prova è minore uguale a B che è la stessa cosa che dire che è minore uguale al minimo posso esprimere in tanti modi diversi il concetto è sempre lo stesso non ha senso incrementare oltre se ho già raggiunto e rischierai di superare il più piccolo dei due numeri dimmi è inutile fare all'inizio una sezione per capire quanto è arrivato tra A e B quindi poi scegli se dunque lui vuole fare una cosa di dire ma se A e B sono vicini chi se frega vado fino ad A se invece A e B sono molto lontani allora faccio il minimo a me sembra una complicazione inutile perché comunque il minimo lo devi fare fare la differenza e fare il minimo è la stessa operazione quindi non andiamo a complicare dimmi ma voi state proponendo di usare un algoritmo diverso però non di incrementare la prova una volta alla sua volta ma fare differenze ogni volta giusto? ecco lo che sto facendo qua qui non ho capito scusa l'osservazione scusatemi no ma la differenza tra A e B non mi serve nulla ok? mi serve solo per capire se sto facendo tanto lavoro inutile nel caso in cui andassi avanti ma ok ehm va bene possiamo fermarci qui dopo l'intervallo magari ci ritorniamo per due ragionamenti e poi proviamo a vederlo disegnato come flowchart come verbe fuori vi lascio un quarto d'ora vi lascio un quarto d'ora grazie 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 grazie